Per Daily Basket e Lega 2 siamo con Galanda, partita concitata nel finale, raccontacela. È stata una partita molto strana perché nel primo tempo abbiamo lavorato bene, prodotto poco perché comunque abbiamo cercato di utilizzare tutta la squadra. Il secondo tempo abbiamo giocato molto male il terzo quarto e poi l'abbiamo nato rizzata. C'è stato un metodo arbitrale un po' stanno stasera perché non ha gestito bene la situazione, però comunque la squadra ha reagito bene soprattutto in fondo ha tenuto e nel supplementare abbiamo vinto stasera. Ti ringrazio, ciao.